Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, fra Italo e Sant'Agostino. Eccomi. Preverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Eccellenza Reverendissima, Fra Italo e Sant'Agostino è nato a Termoli il 13 agosto 1984, da mamma Zenaide e papà Angelo. Figlio unico, ha vissuto in un contesto familiare tranquillo e sereno, ricevendo un'educazione efficace per crescere umanamente e per maturare i principi fondamentali della vita cristiana. Sin da bambino, dunque, ha frequentato questa parrocchia di San Francesco, integrando il normale iter di preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana con la frequenza del gruppo francescano degli Araldini. Crescendo si è determinato nel proseguire il suo cammino nella gioventù francescana, ravvisando in tale fraternità l'opportunità di una maggiore crescita umana e spirituale. Nel frattempo, ha frequentato con profitto il percorso degli studi fino a conseguire la laurea in informatica presso l'Università del Molise. Un sempre maggiore interessamento, però, alla spiritualità francescana e l'esempio dei frati Cappuccini, che operano pastoralmente in questa città, lo hanno indotto a compiere un profondo discernimento vocazionale. Nell'autunno del 2011 è entrato nella nostra casa di accoglienza in San Marco la Catola, quindi ha proseguito con il postulato a Giffoni Vallepiana negli anni 2012-2013. Il 17 settembre 2013, a Morano Calabro, ha vestito l'abito religioso cappuccino ed ha incominciato l'anno di noviziato, al termine del quale il 17 settembre 2014 ha emesso la professione temporanea dei consigli evangelici. Dal 2014 al 2017 ha proseguito il suo cammino di formazione, prima nella casa di post noviziato di Campobasso, dove ha trascorso tre anni, al termine dei quali, concluso anche il bienio filosofico, ha emesso il 7 dicembre 2017, in Foggia, presso la chiesa conventuale e parrocchiale dell'Immacolata, la professione perpetua. E poi ha proseguito gli studi nel convento di Santa Fara in Bari, dove il suo percorso accademico presso la Facoltà Teologica Pugliese si è intrecciato con alcune esperienze di apostolato, che lo hanno visto impegnato nell'animazione della gioventù francescana del luogo e nella collaborazione con il parroco, mettendo a disposizione la sua preparazione per alcune catechesi programmate a beneficio della comunità parrocchiale. In questi anni ha anche perfezionato la sua formazione in ambito musicale, frequentando la scuola di musica sacra di Don Antonio Parisi. Nel lungo cammino di formazione umana, spirituale e accademica, Fra Italo ha saputo mettere a frutto i talenti che il Signore gli ha donato. Il suo carattere volitivo, ma a tratti anche remissivo, gli ha permesso di maturare un buon equilibrio nelle relazioni fraterne, al punto da manifestare anche alcuni aspetti vivaci e dinamici della sua personalità, convenienti per il Ministero a cui è chiamato. Ha sempre mostrato, inoltre, un forte senso di responsabilità nell'eseguire e portare avanti gli impegni che gli sono stati affidati. Il primo ottobre scorso ha ricevuto l'ordine del diaconato presso la Basilica di Santa Fara in Bari e ha svolto tale ministero nella Fraternità di San Giovanni Rotondo, dove già dal 2021 si occupa, insieme ad altri fratelli, della pastorale giovanile vocazionale della nostra provincia. Oltre ad essere assistente della gioventù francescana locale, è valido collaboratore per l'animazione liturgica del santuario di San Pio. Pertanto, a partire da quanto è esposto, dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio dato da coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, scegliamo, questo nostro fratello, per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. L'ordinazione sacerdotale, fratelli e sorelle, è una festa di tutta la Chiesa, dell'intero popolo di Dio. Perché noi tutti viviamo gli uni per gli altri e gli uni degli altri. La Chiesa, l'essere cristiani, non potrebbe sussistere in ognuno di noi se non fosse celebrata l'Eucaristia, se non fossero amministrati i sacramenti, se non fosse annunciata la parola di Dio, se, in una parola, non vi fossero uomini a completo servizio di Cristo e del suo Vangelo. Del resto è anche vero che il sacerdote non potrebbe svolgere il suo ministero, non potrebbe trovare il coraggio di essere portatore di un gombito per il quale egli resta sempre, infinitamente inadeguato, se non vi fosse lo spazio della fede in cui può percepire la chiamata, se non vi fosse lo spazio della preghiera che lo sostiene e gli dà forza, se non vi fosse il riscondro da parte della comunità, della speranza e dell'amore che gli risponde e lo guida anche attraverso i propri fallimenti. Il Coniglio Vaticano II ha parlato del sacerdozio comune e dei fedeli, ma questo non significa che tutti possono fare tutto e che tutti siano destinati alla stessa cosa, ma significa proprio che ognuno di noi deve seguire la propria chiamata, che siamo destinati gli uni agli altri e come l'unico corpo di Cristo possiamo, con la sua grazia, essere segno e presenza del Regno nella storia. Nella liturgia odierna l'aspetto del sacerdozio comune e dei fedeli viene espressa nella recita delle litanie dei Santi. Noi tutti preghiamo, invochiamo la misericordia di Dio, avvolgiamo il nostro caro Fra Italo nel mandello della preghiera. Invochiamo i Santi perché costituiscono il muro di cinta attorno alla sua persona, custodiscano la sua vocazione e lo assistano nella sua missione. Con i Santi anche noi ci mettiamo attorno a Italo per essere custodi della sua vocazione e sostegno della sua missione. Il sacerdote non si regge solo grazie a se stesso, ma grazie alla fede della Chiesa intorno a lui. È questa fede che lo sostiene, lo sollecita e lo incoraggia. Se la Chiesa nei suoi ministri vive momenti di incertezza e di fatica, dobbiamo chiederci, come ci ha invitato a fare Papa Francesco nella lettera al popolo di Dio, dove affrontava il tema delle violenze sui minori, se siamo stati sempre consapevoli e impegnati nel sostenerci a vicenda. Carissimo Fra Italo, avrai letto tanti libri sul ministero sacerdotale e sulle criticità del suo esercizio nel nostro mondo attuale. Invito te e tutti noi a lasciarci educare dalla liturgia della Chiesa, che dice realmente cosa è il sacerdozio, soprattutto per mezzo dei gesti. In questo modo lascia intuire che la realtà va molto oltre a quanto possiamo esprimere. Infatti la realtà del ministero sacerdotale non può essere compresa solo con la mente. Occorrono la mente e il cuore, con lo spirito e i sensi. Vogliamo brevemente ricordare i due segni centrali dell'ordinazione sacerdotale, nei quali emerge sempre qualcosa di più di quello che potremmo dire con le parole. I due segni sono l'imposizione delle mani e l'unzione delle mani. I due gesti si riferiscono a due organi fondamentali dell'uomo, il capo e appunto le mani. C'è anzitutto l'imposizione delle mani con le quali il vescovo e poi l'intero presbiterio stendono le mani sulla testa dell'ordinando. Da un lato il capo, la testa dell'uomo, è come la centrale dei suoi pensieri. E nello stesso tempo, proprio nella testa, dove tutto l'essere è concentrato, abbiamo anche il massimo della sua apertura, occhio, orecchio e bocca. È proprio nella testa che assume in sé il mondo e porta se stesso fuori nel mondo, attraverso la parola e il suo sguardo. È questa testa, con i suoi sensi, che viene afferrata dall'imposizione delle mani. Allora, innanzitutto, l'imposizione è un gesto di presa di possesso. La testa appartiene al Signore. I sensi, l'udire, il vedere, il parlare, devono essere a disposizione di Gesù Cristo. Ma l'imposizione delle mani è anche un gesto di protezione, come fosse un tetto di preghiera posto sopra il tuo capo, Italo. Ed è un gesto anche di apertura, l'antenna, per così dire, della sintonizzazione, che tu, Italo, puoi fare con lo Spirito Santo attraverso la preghiera. C'è poi l'imposizione delle mani. Gli andropologi ci hanno fatto capire quanto le mani manifestino l'aspetto più propriamente umano dell'uomo. Con l'opera delle sei mani l'uomo ha trasformato il mondo. Nell'attività artistica, con le sue mani ha impresso nella pietra i tratti dello Spirito. Con le mani può pregare e può benedire. Le mani di Italo vengono unte, vengono donate all'unto Gesù Cristo. Devono diventare le mani di Gesù Cristo in questo mondo, da strumento di offesa e di appropriazione, con il quale vogliamo impossessarci del mondo ed esercitare su di esso il nostro potere. Le mani devono diventare mani aperte, che pregono, accolgono la grazia, mani che servono, mani che benedicono. E così, in questo segno dell'unzione delle mani, si esprime tutto quello che realmente il sacerdozio è e significa. Esse devono portare il corpo del Signore, annunciare la remissione dei peccati, condurre gli uomini alla preghiera e pregare esse stesse. E devono benedire. Carissimo Fra Italo, nel dialogo che intercorrerà tra noi, al termine di questa omelia, tra le altre cose ti chiederò, sei disposto ad unirti sempre più strettamente a Cristo, sommo sacerdote, e diventare, insieme con Lui, un dono sacrificale per l'onore di Dio e per la salvezza degli uomini? Non ti chiederò se sei disposto a fare, a realizzare una cosa o un'altra, ma ti chiederò se sei disposto a diventare, insieme a Cristo, un dono sacrificale? non viene chiesto solo un fare, ma un essere. E solo questo, e solo in questa profondità, nella quale ci si lascia toccare personalmente, nella quale si è disposti a mettersi in gioco, è possibile rispondere al dono del Signore. Una simile richiesta potrebbe apparirci sovrabbondante, stravagante, esagerata, non veritiera, soprattutto oggi, che la parola sacrificio ci fa un po' paura. Ma ciò, proprio questa sovrabbondanza, questa dipende dal fatto che abbiamo un congetto sbagliato di sacrificio. quasi significasse un tormento senza fine da offrire a Dio. Non è questo il sacrificio. Dio non vuole da noi qualcosa, non ha bisogno. Ha tutto. E Lui, creatore di tutte le cose, che Gli posso dare io e che Gli puoi dare tu, vuole da noi ciò che solo la creatura Gli può dare di nuovo. E qual è? Il tuo amore, il nostro amore. E quindi il sacrificio non significa questo o quel tormento, questa o quella prestazione, bensì uscire dalla legge fondamentale dell'egoismo, dell'affermazione di sé, del voler apparire a sé stessi, appartenere a sé stessi e sottomettersi alla legge nuova di Gesù Cristo, che è l'uomo per gli altri. E' il figlio del padre nello scambio eterno dell'amore trinitario. E' l'essere per, che poi si traduce nel dono di sé. E' proprio perché da soli non ci riusciamo, il sacrificio dei cristiani è proprio questo, lasciarsi misericordiosamente prendere per mano da Cristo e farsi introdurre nell'intima unità del suo corpo, la Santa Chiesa, per diventare in tal modo nell'unità con Lui simili a Dio. Dio stesso, infatti, non è un io chiuso in sé stesso, ma esiste solo nella realtà del dono reciproco tra padre, figlio e spirito. Diventare sacrificio, allora, significa lasciarci coinvolgere in questo mistero, questo mistero d'amore. E quindi bene, così, il vino della festa di Gesù Cristo, il vino della divinità. Con Francesco d'Assisi preghiamo. Ogni potente, eterno, giusto e misericordioso Dio concede a noi, miseri, per te stesso, di fare ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo diretto figlio, nostro Signore Gesù Cristo, e a te, o Altissimo, con la tua sola grazia per venire, tu che, in Trinità perfetta e in semplice unità, vivi e regni e sei glorioso di ogni potente per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie. 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 Grazie.